Start, 2, 1, Mystery Mission, and Liftoff! Andremo a vedere la carriera, oltre a questo volevo dire che potete giocare anche in schermo condiviso con un vostro amico o con il remote play stream mando al vostro amico senza che lui sia lì fisicamente e in questa modalità devo dire che ci sono delle impostazioni di difficoltà parecchio toste. Inizio col dirvi che questo gioco lo reputo probabilmente il miglior arcade presente sulla piazza per quanto riguarda l'automobilismo e le gare. Perché? Perché mixa insieme una meccanica di racing arcade, un minimo simulativo, manageriale, gioco di ruolo, gioco da tavolo, ci sono tante cose. Vi spiego a grandi linee di che cosa stiamo parlando. Allora noi praticamente adesso siamo nella mia partita, sono alla quarta stagione, ogni volta che voi vincete un campionato passate al decennio successivo, quindi parliamo di piste che comunque cambiano, vedete sotto che cambiano, si arriva fino a una sorta anche di Monaco. Ci sono le piste iconiche, ora correremo a Brisbane, che sarebbe Melbourne, è praticamente Melbourne ricariata, questa è il Canada, poi c'è Cracovia che non mi ricordo, per dire c'è Spa, questa è Spa, c'è col salitone dopo la partenza, ci sono un sacco di piste, questa è Interlagos e così via. Ma perché gioco di ruolo? Perché praticamente noi abbiamo la possibilità, adesso vi faccio vedere, tra una gara e l'altra abbiamo delle cose da gestire. In primis guadagnando punti negli eventi possiamo guadagnare questi bucks, che sono quelli con la stellina in alto a destra, ne ho 370 e con questi possiamo potenziare l'auto. I potenziamenti ci aiutano molto, per cui voi all'inizio stagione non sarete competitivi, andando avanti, guadagnandone potenzierete. Se a fine anno, come è successo a me il primo anno negli anni 80, non vincerete il campionato, rimarrete lì con gli stessi potenziamenti, quindi pian piano potenzierete tutto. Il secondo anno, negli anni 90, ho vinto per pura fortuna, perché ho vinto 4 gari in modo fortunoso e ho vinto il campionato il primo anno, quindi sono passato direttamente agli anni 2000. Ma non è finita qui, perché qui potenziate, ok. Ma andando avanti, qua abbiamo il fulcro del gioco, cioè nel corso dell'avventura, della stagione, succederanno degli eventi che potranno farvi scegliere se reclutare gente nuova del vostro box o se dà ragione a uno piuttosto che a un altro in caso di litigio. Questo fa sì che venga determinato, vedete il sorridente, sorridente, diventeranno anche tristi e se diventeranno troppo tristi se ne andranno. Cosa fa questa gente qui? Questa gente qui è, ad esempio, il manager commerciale, l'ingegnere capo, i benefici pit crew, insomma è un uomo box. E queste persone praticamente vi danno delle abilità che voi potete usare, vi proporranno anche di cambiarli. Però vedete, ad esempio, io ho, come, ed è molto bello perché all'inizio non avete la scia e dite, eh ma che schifo non c'è la scia. La scia è un perk che dovete trovare, sbloccare e prenderlo, dovete tenervelo. Quando cambiate invece di decennio non li mantenete. Allora, io ho la scia, ho questo che mi fa guadagnare 20 bucks per giro in ogni evento. Io posso fare sostituisci e posso sostituirlo con uno di questi che sono legati al mio ingegnere capo. Se vado avanti vedo che il pit crew non mi dà ancora nulla perché non li ho ancora sbloccati. Si sbloccano man mano, poi fate buoni risultati. Andando avanti ancora, nel manager mi dà questo appunto, che è quello che mi sta dando adesso, più tutti gli altri. Ovviamente il manager ci dà dei perk legati al guadagno di soldi, gli altri invece riguardo ad altre cose. Quindi se avete delle buone persone con dei buoni perk da sbloccare, è molto bello. Altra cosa da vedere è questa. Qui potete spendendo soldi noleggiare per un ton numero di giri dei potenziamenti provvisori per la vostra squadra. Qua avete la possibilità di cambiare l'auto, cambiare i colori, oltre che la carrozzeria. Infatti le ultime gare degli anni 90 l'ho fatto con il cupolino di vetro, che è molto bello perché io uso la visuale interna. Qua abbiamo i trofei vinti, con le mie vittorie, tutti i miei trofei vinti. E qua abbiamo le mie statistiche. Dopo quasi otto ore ho 13 gran premi vinti, su 32 credo. Ne ho vinti nove negli anni 80 perché ho fatto due stagioni, ne ho vinti e quattro negli anni 90 e non ho ancora fatto nulla adesso. Oltre che, stavo dimenticando di dirvi, ogni membro dello staff ha delle peculiarità, come ad esempio questo, fischia continuamente, ce ne frega niente, furtività, probabilità di malfunzionamento delle auto rivali più alta. Quindi abbiamo la possibilità che subiscano dei guasti le altre persone. Ora abbiamo, dobbiamo fare Brisbane, qua abbiamo degli eventi, cioè volendo noi possiamo fare i giri di prova e qui facciamo dei giri e impariamo la pista. Qui invece abbiamo una prova a tempo dove praticamente abbiamo la possibilità di provare a fare il miglior tempo, il secondo tempo, il terzo tempo guadagnando soldi. Qui abbiamo gara tra rivali che sono degli eventi, tracciato al contrario, quindi è una gara ma con questi premi qui per vincere questi soldi e alla fine il gran premio. Quindi noi possiamo farmare i soldi, ovviamente una volta lo potete fare, in attesa della gara. L'altra cosa che vi volevo far vedere, che non mi ricordo dove si vede, praticamente, e adesso non c'è, praticamente voi avete anche un rapporto con i piloti che possono andare da Nemesi, quindi avete avuto screzzi sia a livello di eventi di gioco che in pista, e quella Nemesi sbloccherà probabilmente lo scontro tra rivali, una gara uno contro uno, così, fino a fan quando andrete molto d'accordo con un pilota. Non so cosa cambia effettivamente, però va bene. Quello che faremo ora, vi farò vedere la gara, ma prima facciamo un giro, così ci facciamo le idee. Quello che si può fare, a salvo pioggia, è una sosta sola al terzo giro, o due soste, una al secondo e una al quarto, con le gomme più veloci. Noi facciamo il giro con le gomme hard, perché io ho questa politica qui, faccio una sosta sola e cerco di fare i meno errori possibili. Ok, stiamo andando a provare l'auto. Voi avete visto probabilmente l'auto degli anni 80, quando ho fatto la live, ma la guida non è eccessivamente, non è simulativa in arcade, ma in pista succede quanto più probabilmente succede rispetto a giochi che si impongono di essere dei simulativi di Formula 1, cioè incidenti tra gli altri, auto che si ribaltano, guasti improvvisi degli altri, non è ancora successo a me, però potrebbe saltare il motore. Ad esempio, io ho avuto in una gara dei freni andati, infatti sulla macchina, la sagoma della macchina lì sulla destra, avevo i freni completamente rossi, cioè significare che quando frenavo vedevo le fiamme venire fuori dalle ruote e non frenava. Così come dopo scontri di gara potremmo avere l'alettone, quindi non potremmo magari tirar tanto veloce in curva e cose del genere. Il turbo è una cosa che non gradisco più di tanto perché preferirei guidare concentrato con i mezzi che ho, il turbo poi non si usava, si usava il Kers, però vabbè, ecco ho sbagliato, vedete che ho la possibilità di riavvolgere il tempo, si può fare fino a tre volte e lo userete abbastanza, vi salva soprattutto quando magari fate delle cose clamorose, perché qui la gara dura soltanto sei giri e quindi niente. Niente, dai, direi che abbiamo fatto il test, ora vi farò vedere la gara, più o meno un minuto a giro, sono sei giri, proviamo a vedere cosa succede. Si parte sempre ultimo e questo è un peccato perché non ci siano le qualifiche. Evento. Sfortunatamente abbiamo scoperto un problema relativo ai supporti della carrozzeria, dovremmo pagare 7,50 per sistemarlo oppure avere un 10% di probabilità che crei problemi. Probabilmente questo continuo a avere, perché è un continuo che ho di questi problemi prima della gara, e qui è la natura da gioco da tavolo con gli imprevisti, ma anche da gioco di ruolo, è qualcuno del team probabilmente che ha questo malus. Comunque io rifiuto, vedete che il suo muore scende, non pago perché sto accumulando soldi per potenziare il motore. Un tecnico della De Francesco Italia si è lasciato sfuggire che proveranno un nuovo sistema di frenata. Ok, questa è una scuderia. Noi adesso impostiamo che andiamo con le gomme hard e iniziamo. Filippo Massio, Filippo Massa, Luis Hardimand, Luis Hamilton, Weber, Alonso, Button, Raikkonen, Vettel, Barichello e Fisichella. Credo siano. Va bene. Proviamo a partire bene. Partenza perfetta, ormai un po' imparato. Bisogna stare, eccolo, stare in scia perché è importante. Quello mi ha urtato, non l'ha presa bene, ma andava a zigzag. Questo mi ha fatto un sorpassone. La pista dovrei conoscerla perché è la prima pista di tutti i simulativi di Formula 1 e io non arrivavo mai oltre alla terza. Quindi l'Australia la dovrei conoscere bene. Però guardate che bagare in questo momento. Là davanti ci sono già delle sportellate. Uso il turbo, rimango dietro, mi guardo un po'. Mi piace giocarlo in prima persona dentro l'abitacolo. È più immersivo che la visuale da dietro. Guardate come si sportellano tra loro. Io adesso ho fatto una cavolata. Sono finito di nuovo in nona posizione. E stiamo andando male, male, male. Ormai mi sta passando anche questo. Purtroppo la macchina non va. O potremmo effettivamente avere... Uh, lolo, lolo. Ecco, un'altra cosa. Quello lì non è ritirato, ma userà come possiamo fare anche noi il ripristino dell'auto, perdendo tempo ovviamente. Vedete che quel pilota lì davanti fumava dalle orecchie. E adesso non si è visto tanto, però aveva la faccina che fumava dalle orecchie. Probabilmente quello lì è un pilota con cui non andiamo molto d'accordo. Ora, cercherò di non distrarmi. Perché di solito mi isolo totalmente. Abbiamo il traguardo e finisce il primo giro. Ora, al secondo giro si fermeranno quelli che hanno le gomme rosse. Quindi quelli che stanno andando via adesso. Quindi cercheremo di prendere il più vantaggio possibile. Perché poi noi ci fermeremo al terzo e loro si rifermeranno al quarto. Quindi speriamo. Siamo un po' indietro. Non ho grandi obiettivi, però sarebbe bello piazzarmi davanti per guadagnare qualche soldo. Per non dover trovarmi costretto a passare troppe stagioni negli anni 2000. Perché mi piacerebbe comunque andare avanti. Era primo lui, massa. Infatti si è girato. Vedete, questi sono tutti eventi che succedono nei giochi di Formula 1 di simulazione. Ma non sempre. Almeno non... Probabilmente forse neanche negli ultimi. Forse nei veri simulativi, ma non nei Formula 1. Qua ho sbagliato. Però cerco di recuperare. Intanto abbiamo preso il sesto posto. Cioè, avete visto l'imprevedibilità della gara? È fighissimo. Ho già finito il turbo, cazzarola. Le gomme sono mezz'andate. Mi sa che dovevo fermarmi adesso. Sì. Mi sa che voleva farmi fermare adesso. Dovevo fermarmi... No, mi fermo al terzo io. Probabilmente vogliono far fermare perché ho o non ho il carburante. No, le gomme. Le gomme davanti sono completamente andate. Rubens Barichello, Rubens Bernardo. Esploso un... Cercherò, ed è molto bella sta cosa, perché si percepisce di conservare le gomme. Cioè, di non maltrattarle. Sono secondo attualmente. Cercherò di non maltrattare le gomme. Anche se è difficile. Stiamo arrivando verso la fine. Cercherò di non fare troppe cose strane. Anche se io comunque devo spingere. Qui le gomme sono proprio rosse. Spero non mi esplodano. Darò via dai cordoli. Ok, adesso si entra in box. Sono tutti in stato critico. Ci fermiamo noi, che eravamo rimasti gli unici. E cambiamo le gomme. Non mi ricordo quanta benzina avevo, quindi cercherò di farne il più possibile. Rimettiamo le gomme hard. Che sono state cambiate. I farini, vedete che stanno soffrendo un po'. Andiamo. I farini sono quasi gialli. Mancano... Siamo al quarto. Ok, adesso alla fine di questo giro si fermeranno quelli che hanno scelto di andare con le gomme rosse. Poi, altra cosa. Le gomme sono fredde quando uscite dai box. Infatti c'è un perk che potete trovare dove, se lo equipaggiate, vi fa andare meglio i primi metri dopo aver cambiato gomme, quando le gomme sono freddissime. Ora, siamo sesti. Al momento io sarei anche soddisfatto perché sono a punti. Il problema è che quell'auto blu, probabilmente, dietro di me, è massa che era uscito prima. E massa è uno da prime posizioni. Quindi, secondo me, ce ne ha più di noi. Infatti si sta già avvicinando. E credo non ce ne sarà moltissimo per lui. Però posso, ovviamente, chiudergli la strada il più possibile. Non ho ancora usato tutti i riavvolgitempo. Eh, guardate, si stava infilando lì. Volevo evitare uno scontro scomodo. No, adesso ha dovuto, probabilmente, inchiodare. Perché ci sta finendo addosso. Dai, dimmi che ti fermi. No, non si ferma. Però gli stiamo in scia. Gli stiamo in scia. Vedete che c'è la scia. Qua si è girato qualcuno. Mamma mia, che fortuna! Questo, vabbè, è un autoscontro. Sarebbe stata una bandiera rossissima questa. Però abbiamo preso una posizione in più. Ormai possiamo cedergliela anche a massa questa. Tanto a Giancarlo Fischiati sono... Ok, sono andate le sospensioni. Eccolo lì. Vedete che mi fa anche la faccina che mi ha passato. I farini sono andati. I farini devo fare ancora un giro e mezzo. Quindi speriamo bene. Speriamo di concludere almeno punti. Allora, non è ovviamente un simulatore. Si va, come in tutti i giochi arcade, a scalare tutte le varie... Eh, ho sbagliato. Usavo il turbo. Si va a scalare le varie classifiche. Cioè, venendo promossi nei vari decenni. Quindi è un gioco che poi una volta che avrete giocato tutto... Finirà. Però ha del potenziale pazzesco questo gioco. Ma veramente tanto potenziale. Perché comunque basti anche solo pensare di mettergli una qualifica. Perché voi partite sempre decimi. E ci sono i perché che vi fanno partire più avanti. Però partite sempre decimi. Mettergli una qualifica. Mettergli una possibilità magari non legata alla promozione. ma legata magari al farvi assumere da vari team. Cioè, adesso il gioco è già uscito. Quindi penso sia tardi per questi sogni. Però... Perché no? Tra l'altro, io in mezzo a tutto questo, sono una delle auto più lente, probabilmente della gara. Ma ho avuto un culo smisurato e mi ritrovo in seconda posizione. Quindi potrei quasi sognare di andare a vincere. Sarebbe qualcosa di terribilmente ingiusto. Questo è il fischetti di prima che... I freni sono rossi. Pazzesco. Pazzesco. Pazzesco! Ho vinto, non avevo mai vinto in australe. Questa è stata veramente fortunosa. Una gara... Poi inizia anche a piovere. Ci sono le gare dove piove. Non è fatta benissimo la parte in cui si pianifica la sosta. Perché non sapete più neanche cosa fare. Se vi bastano le gomme. Se gli altri si fermano. Però tutto... Niente che non possa essere migliorato con una sciocchezza, insomma. Però non mi aspettavo di vincere. Ero in fondo. Abbiamo vinto. Quindi a questo punto vedete che la classifica era abbastanza bilanciata e mi ritrovo al secondo posto. Ora, posso pensare di vincere il campionato? Ed è questo il bello del gioco. Vi dico di no. Vi dico di no perché ci sono delle piste in cui io con questa macchina non riesco a essere competitivo. E in quale altro gioco fate un discorso del genere? Lo fate sui simulativi, non su un arcade. Tante volte sui simulativi non lo fate questo discorso. Quindi è un grande arcade questo. Tra l'altro vedete qui, come vi dicevo, io la Nemesi è con Vettel. Sebastian Vesper. Perché non lo so. Va bene. Intanto andiamo a reclamarci il podio. Il primo posto. Vedete che in alto ogni 5 di quelle coppe verdi prendiamo un nuovo attributo. Un nuovo perca. Vedete che ne abbiamo presi un botto. Abbiamo sbloccato un beneficio. Beneficio che è qua. Dilemma per l'evento. Ora, possiamo prendere un beneficio... Allora, il pit crew guadagna felicità. O danni da collisione ridotti. No, io il pit... No, scelgo lui perché era triste. Adesso è triste quell'altro. Comunque, vabbè. Intervista. Sembra che tu e Felipe Maccio stessi riputando un duello senza preoccuparvi degli altri. Ora che le acque si sono calmate. Come ti senti di aver vinto? È stato facile. E lui potrebbe venire a riprendermi la prossima volta. Abbiamo 1700. Ora, se ne avessi 5000 potrei prendere un quinto perk e metterlo lì. Ma non lo farò perché non ce li ho. Ma posso andare a potenziare l'auto. Quindi in questo caso io posso andare con questo. Andare a mettere... Vedete come cambiano le due cose. Accelerazione e velocità massima. Io potenzio l'accelerazione. No, la velocità massima. Iniziamo con quella. Me ne bastano pochi. Quindi magari adesso mi faccio un evento. Faccio quei 40-50 bucks per potenziare anche l'accelerazione. Non è potrei pensare di magari vincere. Ok, mi sta chiamando Fettel. Vediamo cosa dice. Ne ho abbastanza le tue performance arrogante. È il momento di rimetterti in lega su uno dei miei tracciati preferiti. Incontriamoci per una gara testa a testa qui a Cracovia. Nessun'altra auto. Solo noi due. Posso decidere di partecipare? No. Non accetto. Non mi abbasso a queste cose. Non ho voglia. Mi sta chiamando il manager commerciale. Dice parla debitori. I tuoi commenti sono già diventati un meme. Ottimo lavoro. Abbiamo vinto qualcosa? Qualche soldo? No. Ora siamo a Bruxelles. Abbiamo la gara a Spa. Bene ragazzi. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Se non avete visto la live, questo video sicuramente spiega meglio della live. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Io con questo vi saluto, vi ringrazio e vi rimando ad un prossimo video gameplay. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.